Ok, bene, eccoci. Buonasera a tutti e ben ritrovati alle nostre lezioni e di approfondimento della domenica pomeriggio. Ci rivediamo dopo la pausa un pochino che abbiamo preso da queste lezioni per le settimane della Pasqua e riprendiamo con la lezione di oggi e di domenica prossima dedicate a oggi Giuseppe De Nittis e domenica prossima Emma Zanella a parlare di Giovanni Boldini. Perché, come dire, questo specifico approfondimento? Beh, ricordo a tutti quanti che questi incontri, questi approfondimenti dedicati alle storie e vite ed artisti, anticipano la mostra che apriremo, speriamo, insomma, nel mese di maggio, quando insomma un po' queste restrizioni che purtroppo ci chiudono in casa saranno allentate e potremo inaugurare la grande mostra a cui ormai da anni, possiamo dire, il Museo Maga sta lavorando, che è impressionista alle origini della modernità. e in questi mesi di chiusura forzata del museo e che anticipano questa grande mostra abbiamo un po' voluto approfondire i profili biografici e le vite dei protagonisti di questa mostra. E all'interno del percorso espositivo che poi, insomma, speriamo che tutti voi, tutti noi, potremmo visitare insieme, una specifica sezione è dedicata ai cosiddetti italiani a Parigi. Col termine italiani a Parigi si intende un gruppo di autori e di artisti, anche, come dire, autonomi tra loro, che si trasferirono nella seconda metà del Settecento dell'Ottocento, scusate, attorno agli anni Settanta dell'Ottocento, dall'Italia, proprio alla città di Parigi. E tendenzialmente sono tre gli autori a cui si fa riferimento quando si parla di questo gruppo di artisti italiani che si avvicina alla cultura impressionista. Ovvero, stiamo parlando di Giuseppe De Nittis, di Zandomenichi e di Boldini. Le opere di tutti questi tre artisti, poi, saranno, come dire, esposte in mostra. Tra queste abbiamo deciso di approfondire le figure di De Nittis e di Boldini. Anche se, chiaramente, anche Zandomenichi è una figura importantissima all'interno di questo panorama, ma probabilmente ha avuto, come dire, la sua ricerca, uno sviluppo più lineare di cui magari renderemo conto nelle settimane, insomma, prossime. Perché riflettere sull'operato, sull'opera di Giuseppe De Nittis? Perché De Nittis, all'interno della scena artistica parigina, rappresenta proprio un unicum, anche in relazione alla sua formazione e alla storia dell'arte italiana del secondo Ottocento. È un artista che ebbe un successo breve e fulmineo. Dico breve e fulmineo perché è molto giovane, ha 38 anni. Infatti De Nittis nasce nel 1846, ma purtroppo già nel 1884 muore improvvisamente e tragicamente i referti dell'epoca parlano di una congestione cerebrale, probabilmente un ictus o un aneurisma. Questo fa sì che, come dire, rispetto ad autori come appunto Zandomenico e come Boldini, che hanno avuto una vita lunghissima, l'opera di De Nittis, come dire, si concentra proprio, direi, in due momenti, quello della formazione avvenuta in Italia e quello poi collegato al suo trasferimento, la scelta di trasferirsi a Parigi e di, in qualche modo, entrare in contatto veramente con tutta la scena artistica più sperimentale di quegli anni, che in quegli anni c'era in città, anche se, vedremo, poi parteciperà costantemente anche ai salon più istituzionali. Non a caso De Nittis è l'unico, in realtà, artista italiano a prendere parte alla prima mostra impressionista, quella del celebre, insomma, di cui abbiamo parlato un sacco in queste settimane, appunto del 1874, nello studio di Nadar. In realtà, poi, Zandomenighi, a fine degli anni 70, inizierà a prendere parte alle mostre impressioniste, quindi anni dopo De Nittis, e parteciperà per tutti gli anni 80 dell'Ottocento e quindi entrerà più tardi in contatto con la scena impressionista. Invece Boldini, pur avendo frequentato vari artisti del movimento, avrebbe avuto anche una stretta amicizia, per esempio, con Degas, non parteciperà mai alle mostre impressioniste. Quindi, in realtà, i due veri e propri artisti che partecipano alle mostre ufficiali sono De Nittis e Zandomenighi, i due pittori, insomma. Per quello che riguarda, nello specifico però, l'attività e la vita di De Nittis, quello che dobbiamo ricordare, come dire, inizia a origine in due città, che sono due luoghi fondamentali per la formazione dell'artista. Da una parte l'infanzia, passata in Puglia, a Barletta, dove nasce e cresce, e il trasferimento con la famiglia nel 1860-61 a Napoli. A Napoli dove poi inizierà, nonostante l'ostilità dei genitori, a frequentare l'Accademia di Belle Arti. E in questo contesto abbiamo i primissimi esempi della sua lavoro pittorico, legato dunque a una dimensione di attenzione al paesaggio. Ecco, è già dai diari, come dire, della sua gioventù e dai racconti fatti dai conoscenti in accademia e dai familiari che noi iniziamo ad apprendere come il carattere di De Nittis si manifesti sin da giovane come un carattere ribelle, assolutamente non incline al compromesso, spesso, insomma, irrequieto. Ecco, e questa irrequietezza caratterizzerà tutti i suoi costanti spostamenti in questi anni, tra il 1860 e il 1866, in questi 6-7 anni di formazione, viaggerà tantissimo in Italia e non lo vedremo, seppur lo vedremo vicino a vari movimenti, non lo vedremo mai effettivamente prendere parte a una vera e propria scuola. Anche se, chiaramente, l'importanza delle riflessioni e delle considerazioni paesaggistiche sono molto importanti per il giovane De Nittis, che, studiando a Napoli, non può non incontrare, come dire, il peso, l'importanza di una figura fondamentale nella pittura napoletana, partenopea, italiana, direi, dell'Ottocento, come Giacinto Gigante, che è riconosciuto come un po' il capostipite della cosiddetta scuola di Posillipo, che rappresenta il primo vero momento di riconsiderazione paesaggistica nella storia della pittura italiana del Golfo di Napoli. E quindi è proprio, lo si vede in questi primi dipinti di De Nittis, che noi riconosciamo proprio la matrice di questa pittura, di questa scuola paesaggistica. De Nittis la rielabora dando attenzione però non solo alla dimensione più accademica e non solo alla dimensione più, potremmo dire, quasi arcadica del tema paesaggistico. Cioè un tema paesaggistico fatto di armonia, fatto di bellezza classicista, che ricorda quella, come dire, dell'età dell'oro, che ricorda l'arcadia, che ricorda l'antichità classica. Perché c'è sempre questo tema accademico in tutte le scuole di pitture italiane legato al confronto con l'antico. Ma anche attraverso un altro, ma con un'attenzione particolare alla dimensione umana, a scene di lavoro o di realtà quotidiana che si contestualizzano all'interno di questi, come dire, soggetti paesaggistici. Dunque quasi a una sorta di realismo o verismo, citando ovviamente Giovanni Verga, di questa vicinanza tra paesaggio e attività umana, cosa che chiaramente nella scuola di Posilipo noi non troviamo. Un altro elemento però di affinità e anche un elemento che sarà importante in tutta l'attività di Denitis è la scoperta del fascino di Pompei. Pompei diventa un soggetto di interesse nella pittura ottocentesca, proprio grazie a Gigante, grazie alla scuola di Posilipo, e il soggetto di Pompei è chiaramente letto in una chiave profondamente romantica, quindi l'idea di queste rovine del passato, di una città travolta, distrutta dalla furia del vulcano, ma che conserva il fascino meraviglioso dell'antico. Ecco, questo fascino toccherà anche Denitis, che realizzerà dei dipinti dedicati a Pompei, stupendi, molto noti, e anche una serie di bellissimi acquarelli e disegni. Lo ricordo perché in mostra avremo uno di questi acquarelli, dedicati proprio a una scena, appunto un brano architettonico, ovviamente delle rovine di Pompei. Questa avvicinanza a queste tematiche del paesaggio fa sì che Denitis, insieme a un altro gruppo di pittori, tra cui ricordiamo Adriano Ceccioni, fondano questa sorta di piccolo gruppo, noto come la scuola di Resina, che in qualche modo abbina tematiche domestiche e borghesi a questa attenzione ai temi di paesaggio. La figura di Adriano Ceccioni, in realtà, pur non essendo quella di un, come dire, immortale maestro della pittura italiana, è importante. È importante perché mette in relazione questa scuola pittorica, paesaggistica napoletana con la scena macchiaiola fiorentina. Ed infatti è grazie attraverso Ceccioni che tra il 66 e il 67 Denitis si sposta a Firenze e entra in contatto con la scena macchiaiola. Questo paesaggio, no, lungo l'Ofanto, fiume attraverso il centro Italia, è chiaramente, è chiaro, come dire, la vicinanza alle tematiche macchiaiole. Anche se dobbiamo dire che Denitis non si fermerà poi, non entrerà mai a far parte del gruppo macchiaiolo pur frequentandone gli autori, ma è nello stesso anno, in realtà, che si sposta a Parigi. Per cui già tra, quindi nel 66 arriva a Firenze e già nei primi mesi del 67 è attestata la sua presenza nella città parigina. Quindi, a questa fase tumultuosa dei giovani anni ribelli della sua vita segue la scelta di intraprendere in modo, come dire, in modo radicale un allontanamento completo dalla scena italiana che non gli interessa minimamente restare in Italia. Non tornerà mai più in Italia se non per dei brevi viaggi a Napoli, dove comunque tutta la sua famiglia era rimasta, che si era trasferita da Barletta nel 61, ma residerà poi stabilmente a Parigi. E a soli 23 anni, nel 69, sposa Leontine Gruviglie. Il matrimonio con Leontine Gruviglie per la vita di Denitis risulta in realtà estremamente importante. E risulta importante perché è grazie a Leontine che il giovane Giuseppe entra in contatto veramente con la scena intellettuale e culturale della città di Parigi. Tanto che nella seconda metà degli anni 70 e per tutti gli anni 80 il loro salotto sarà un salotto di riferimento proprio per gli incontri, i dialoghi, lo sviluppo della cultura sarà uno dei salotti di riferimento per lo sviluppo della cultura parigina della metà degli anni 70 dell'Ottocento. In cui sarà proprio Denitis a conoscere, dialogare ed entrare in amicizia con quelli che poi oggi noi riconosciamo come essere i grandi maestri del gruppo impressionista come Degas, come Renoir, come Monet, come Pissarro. Ecco, è in questi anni che il linguaggio di Denitis si trasforma. Diventa, abbandona lentamente questa descrittività veristica del paesaggio e del paesaggismo napoletano. Abbandona anche l'attenzione verista alla descrizione di brani contadini e diventa sempre più attento a un tentativo che con gli anni si fa sempre più sperimentale di raccontare l'emergente borghesia, le forme della nuova società che si stava creando nella Parigi della Belle Epoque. Ed è la, userei definirla, cristallina capacità di Denitis di raccontare questa nuova società borghese nella sua morbidezza, nella sua attenzione ai dettagli, nella sua grande eleganza, che è proprio quella della Belle Epoque post-guerra franco-prussiana, a valergli un riconoscimento che in dieci anni di grandi attività a Parigi è stato fortissimo. L'elemento che dobbiamo un attimo considerare è capire socialmente e economicamente che cosa succede in questa società parigina degli anni 70 e 80 dell'Ottocento. È una società non più e non esclusivamente costruita su delle dinamiche di arricchimento, di lavoro, di industrializzazione, che caratterizzavano la prima metà dell'Ottocento. Ma è una società come poi la definì anche il grande sociologo Veblen che è del leisure, cioè una società dell'intrattenimento, una società che misura la propria ricchezza non attraverso i beni che accumula, ma rispetto alla capacità che ha di spendere, di intrattenersi e di vivere il tempo libero. Questo è stata la grande capacità pittorica di Denittis, raccontarci la nascita di questa, potremmo dirla anche di questa nuova industria, se la guardiamo e la confrontiamo con la nostra società di oggi, che è quella del tempo libero. Quindi le passeggiate al parco, sui boulevard, le serate nei caffè, le corse dei cavalli, i pranzi, le colazioni nei giardini. Per Giuseppe Denittis questi nuovi riti che sono le origini strutturali della società dell'intrattenimento, della società dei costumi, che poi diventerà nel Novecento, nella nostra epoca, la società dei media e dello spettacolo, sono il soggetto prediletto di un nuovo racconto. E la capacità veramente unica con cui Denittis è in grado di raccontare questa novità socioculturale non è apprezzata solo da noi che storicamente lo guardiamo, ma fu incredibilmente apprezzata anche all'epoca. Quindi questo soggetto esposto al Salon e premiato al Salon del 1874 è proprio l'immagine di questa nuova ricchissima, meravigliosa eleganza della pittura di Denittis. Il titolo che è freddo una passeggiata in uno dei luoghi iconici degli interessi di Denittis, il grande parco, il Bois de Boulogne, il grande parco di Parigi che dà sulla Seine, in una giornata d'inverno in cui queste donne borghesi si stringono tra di loro per il freddo del vento e di un clima quasi da pioggia o da neve. Ecco, quello che ci colpisce è come dire la novità di una nuova quotidianità, la capacità di raccontare questa nuova classe sociale che appunto, come stavo dicendo prima, non dimostra la sua ricchezza accumulando beni, ma dimostra la sua ricchezza spendendoli, facendosi vedere, dando importanza alla dimensione dell'abito, della moda, dei nuovi usi e costumi, del passeggiare nel parco, del passeggiare al centro della città, del rappresentarsi. Ecco, diciamo che tra il 1874 e l'anno improvviso della morte 1884 di Denitis declinazioni diverse di questo tema e di questo soggetto saranno il centro della pittura di questo elegantissimo maestro che però verrà costantemente alternata con soggetti invece dedicati all'attenzione paesaggistica e rurale e quindi allo sguardo alle proprie radici, allo sguardo al sud Italia, al ritorno costante per esempio del tema romantico anche del vesuio. Cito, poi capirete anche perché questo dipinto ritorno dal vesuvio del 1873 perché per esempio è un dipinto realizzato a Napoli durante un viaggio in cui appunto probabilmente fa anche tutti una serie di schizzi dedicati a Pompei ma è un dipinto dedicato ad Alexandre Dumas, figlio del celebre romanziere, anche egli celeberrimo scrittore parigino, grande amico e frequentatore del salotto di Leontine e Giuseppe nella Parigi proprio di quegli anni 73, 74, 75. Deniptis fu anche insieme a Monet tra i primi autori a dare grande importanza nei suoi viaggi e nei suoi dipinti alla città di Londra una città che sembra agli antipodi delle tematiche impressioniste perché il paesaggio londinese è un paesaggio diciamo pesantemente industriale non c'è quell'attenzione quella vicinanza col Bois de Boulogne con l'Argentoie con quei luoghi ameni e naturalistici subito fuori città ma Londra è al contrario la Londra vittoriana è una Londra fortemente concentrata sullo sviluppo industriale e il carbone era noto quanto come dire coprisse costantemente i cieli della città ma per Deniptis queste ombre diventano l'occasione da una parte per sperimentare la morbidezza dell'eleganza di questi toni scuri come in questo celebre dipinto dedicato proprio a Westminster nel centro di Londra ma anche per dare una nuova una rinnovata attenzione non solo ai soggetti altoborghesi delle sue più celebri ritrattistiche ricerche parigine ma anche e ancora a quelle classi popolari in questo caso proprio di operai che si collegano maggiormente alla fase diciamo realista e verista degli anni giovanili degli anni napoletani fiorentini della vita dell'autore questo dipinto insieme a un'altra serie di dieci dipinti furono esposti all'esposizione universale del 1878 che consacrò definitivamente Deniptis nella diciamo nell'imperio della pittura parigina di quegli anni dopo la partecipazione nel 74 alla prima mostra impressionistra e al Salon in cui quest'opera venne recensita apprezzata e premiata praticamente da tutti nel 78 questi dieci quadri questa grande mostra lui dedicata all'esposizione universale fu il momento in cui addirittura venne anche conferita la Légion d'Honor e venne riconosciuto come pittore ufficiale francese quindi un momento dal 78 in poi è un momento in cui effettivamente l'opera di Deniptis viene riconosciuta ed estremamente apprezzata in tutta la scena artistica parigina ma anche direi europea perché anche i pittori italiani iniziano a rilevare l'importanza dell'autore e vogliono come Zandomenica e anche Boldini arrivare a Parigi e conoscerlo e incontrarlo è di questi ultimi anni purtroppo della vita tra il 79 e l'80 e l'81 che vediamo un'evoluzione del linguaggio pittorico di Deniptis verso dei soggetti che assumono dei maggiori tratti di sperimentalità non tanto nei soggetti che come dicevo prima restano sempre gli stessi ma nelle tecniche metodologie approcci compositivi questo effetto di neve per esempio ci presenta questa donna che si staglia su un fondo bianco in un soggetto in cui vediamo le pennellate iniziano a essere più sintetiche più compendiarie meno descrittive sicuramente in questi anni Deniptis sperimenta dei linguaggi pittorici che avvicinano la sua pittura alle sperimentazioni linguistiche della trasformazione della cultura impressionista con cui è costantemente in dialogo per cui non c'è solo una vicinanza di soggetti ma c'è anche una vicinanza di temi scusate non c'è solo una vicinanza di temi e soggetti ma c'è anche una vicinanza uno sguardo sperimentale dal punto di vista tecnico dall'altra parte Deniptis guarda con sempre maggiore attenzione ai dettagli di questa nuova borghesia parigina e nel celebre trittico conservato una delle opere più famose di Deniptis conservata proprio alla Galleria Nazionale di Roma le corse al Boa de Boulogno quindi le corse di cavalli noi troviamo queste scene in cui vediamo anche quanto Deniptis è influenzato dai linguaggi fotografici perché vediamo quanto il taglio dell'immagine sente l'influenza non tanto dei classici sistemi compositivi pittorici che aveva imparato a Napoli dall'Accademia ma dalle nuove strutture compositive imposte dalla fotografia e quindi questo sguardo sui dettagli da una parte questa donna in piedi sopra una sedia per guardare la corsa dall'altra i personaggi che con i binocoli osservano i dettagli probabilmente per guardare se hanno vinto le proprie scommesse e al centro questo gruppo di persone sempre in inverno strette attorno al bracere in cui troviamo qui un brano molto sperimentale dal punto di vista proprio tecnico nella rappresentazione dei tizioni ardenti ecco e vediamo nella relazione tra soggetti e sfondo questo alternarsi di questi nuovi elementi tecnici e come dire linguistici che arricchiscono e conferiscono complessità profondità ricchezza al linguaggio pittorico dell'artista che qui non ha non ha ancora 35 anni ecco qui un soggetto uno degli ultimi dipinti dell'autore il salotto della principessa Matilde a differenza della maggior parte dei dipinti dell'autore questo soggetto è molto come dire peculiare perché rappresenta un interno non è quindi un soggetto all'aperto o una scena di vita nella città così come abbiamo visto finora ma si svolge proprio all'interno di uno dei ricchissimi e esclusivi salotti della Parigi alto-borghese e in questo caso anzi nobiliare e qui notiamo tutta l'attenzione di De Nittis per i dettagli gli abiti i fiori le pareti damascate le argenterie e notiamo quanto questi dettagli rappresentino una come dire specifica attenzione dell'artista verso le modalità attraverso cui la classe egemone esprime il proprio potere esprime se stessa attraverso questa attenzione questi dettagli e queste decorazioni guardate anche qui l'approccio sperimentale nella composizione nella profondità del soggetto dato dalla presenza in primo piano della tenda che quasi ci fa entrare nella scena scoprire come se fossimo quasi degli ospiti non invitati il segreto di questa festa privata e ancora la compresenza di elementi dipinti con grandissima attenzione al dettaglio e uno sfondo con una dimensione più sintetica più compendiaria dove i corpi dei vari partecipanti si fondono con con le pareti con i giochi di ombre che in qualche modo sono in contrasto e bilanciano la luminosità di questo tavolino nella parte destra del del soggetto del quadro in cui troviamo anche una serie di dettagli e di riferimenti alla cultura giapponese che come dire rappresenta proprio una delle grandi mode della Parigi di quegli anni legata a tematiche di carattere esotico esotista e coloniale la colazione in giardino è l'ultimo dipinto che noi conserviamo che conosciamo realizzato completato da Giuseppe De Nittis e questa colazione in giardino dimostra e documenta non solo una scena di vita quotidiana della moglie e del figlio del pittore ma anche una consapevolezza della cultura artistica a cui l'autore fa riferimento nel senso che gli studi prettamente pittorici fatti a Napoli a Firenze poi interrotti per il trasferimento a Parigi hanno fatto sì che De Nittis non avesse una cultura storico-artistica ampia e completa ma al contrario si riferisce di più a ciò che conosce scopre personalmente attraverso la vita a Parigi e quindi chiaramente troviamo qui una citazione di una serie di autori che per De Nittis sono sempre più importanti in particolare ne cito quattro Manet chiaramente perché la Petit Dijon sull'erbe è chiarissimamente all'origine di tutta questa serie di soggetti anche proprio per la presenza di questa fortissima alternanza tra luce e ombre Monet che realizza un soggetto borghese simile proprio attorno agli anni 60 dell'Ottocento ma anche chiaramente Renoir e Degas ecco questi autori avrebbero potuto rappresentare per De Nittis veramente una chiave di straordinaria rivoluzione e di costante evoluzione di quello che era il suo linguaggio pittorico che però per forza di cose resta un'ipotesi perché appunto l'artista molto giovane muore improvvisamente e quindi ci restano quello che ci resta è proprio questa immagine di profonda eleganza di estrema attenzione ai dettagli di capacità unica di raccontarci la grande borghesia francese della Belle Epoque e dell'epoca insomma di Napoleone III a documentare il livello anche proprio di importanza di stima di oserei dire anche di celebrità che De Nittis raggiunge proprio in quegli anni che viene stroncato tragicamente da una morte improvvisa via l'epitafio di Dumas celebrativo è vero non descrive probabilmente nulla della realtà della vita di De Nittis ma ci è utile a capire il livello di prestigio di importanza e di impatto che l'autore ebbe unico tra gli autori italiani che vivevano in quel momento in Francia nella cultura parigina nella cultura visiva parigina dell'epoca ed è per questo che è un autore insomma importante da ricordare non solo per la grande eleganza dei suoi dipinti ma proprio per la sua capacità di raccontare una società che si stava trasformando è vero che tutta la pittura impressionista è capace in qualche modo in modi diversi di raccontare queste trasformazioni della società ma nessun autore come De Nittis è stato capace di soffermarsi con tale attenzione dedizione e amore per il dettaglio proprio su questa sua grande come dire fascino ed eleganza ed è forse per questo motivo che in qualche modo possiamo vedere in Boldini una sorta di autore che ha preso in mano alcuni degli aspetti alcuni degli interessi propri della pittura di De Nittis e in modo assolutamente unico innovativo e autonomo li ha rielaborati e credo insomma non credo ed è per questo motivo che con la nostra direttrice a Mazzanella abbiamo deciso di raccontare uno dopo l'altro le vite di questi due autori quindi ringraziandovi per insomma l'attenzione che mi avete rivolto questa sera vi quindi lascio all'incontro di settimana prossima dedicato a Giovanni Boldini non so se c'è qualche domanda che cosa che mi volete chiedere ricordo anche che questa settimana insomma nei prossimi appuntamenti futuri non riprendono anche le nostre conferenze del mercoledì scusate i nostri incontri del mercoledì mattina quindi alle 11.30 mercoledì prossimo riprendiamo il nostro notiziario sapete che le nostre attività come dire si alternano tra le conferenze di approfondimento della domenica pomeriggio e il notiziario del mercoledì in cui raccontiamo un po' alcune questioni alcuni aspetti di come dire di ciò che sta succedendo in museo per cui avevamo interrotto sia le conferenze della domenica che le sia le conferenze della domenica che il notiziario del mercoledì per la settimana di Pasqua vi ricordo che insomma avete visto con oggi abbiamo ripreso le conferenze della domenica ma tra tre giorni riprendiamo anche il notiziario del mercoledì per cui se potete se vi siete interessati poi tanto resta online su facebook il mercoledì alle 11.30 riprende anche il nostro notiziario in cui parleremo della ripresa adesso che hanno riaperto le scuole primarie delle attività didattiche attraverso dei progetti sperimentali che stiamo facendo online allora ho visto che qua ci sono alcune domande mentre chiacchieravo guardavo le domande allora Tissot certo Tissot è stato amico di Denittis è stata qualche anno fa è stata fatta anche una mostra a Barletta dedicata proprio all'amicizia tra James Tissot e Denittis tra l'altro questo aspetto è importante perché forse è un aspetto non molto conosciuto ma la moglie Leontine anzi la vedova Leontine alla sua morte alla morte della vedova in accordo con il figlio lascia un ingente lascito il più importante lascito proprio quello familiare dei dipinti di Giuseppe Denittis alla città di Barletta città in cui l'artista era nato per la costituzione di un museo che oggi esiste e è un luogo veramente unico per poter ricostruire tutta l'attività pittorica e i linguaggi pittorici dell'autore per cui insomma se avete in mente di fare dei viaggi in Puglia la meta di Barletta non solo dal punto di vista storico ma anche per il museo di Giuseppe Denittis è una meta assolutamente imperdibile perché appunto anche vista la morte molto giovane dell'artista la quantità di opere presente nelle varie collezioni nei vari musei è molto ristretta e quindi questo museo permette veramente in modo unico di fare uno sguardo generale sull'opera dell'artista poi allora sto guardando le vostre domande scusatemi sarò veloce allora l'altro artista è Zan Domenighi che ha esposto alle mostre impressioniste ci sono altre domande ok vorrei sapere se pervedete la presentazione di Segantini allora Segantini non è tra gli autori a cui faremo delle non è nel programma delle nostre conferenze perché non è parte della mostra a cui stiamo dedicando queste lezioni queste lezioni sono collegate diciamo agli autori che sono presenti in mostra sì allora il contatto che contatto che relazione c'è tra la pittura macchiaiola e Denitis allora sì sicuramente il tema della luce e il tema dell'attenzione a dei dettagli più quotidiani nella costruzione del paesaggio sono dei tratti di vicinanza tra Denitis e il gruppo macchiaiolo è difficile parlare effettivamente dell'influenza sul tema della luce perché poi chiaramente arrivando immediatamente a Parigi entrando immediatamente in contatto con la scena impressionista è ovvio che tutti questi elementi come dire si sovrappongono l'uno con l'altro come si può partecipare al notiziario è molto semplice il notiziario è esclusivamente dura un quarto d'ora e venti minuti sulla pagina Facebook del Museo Maga si è solo su Facebook il notiziario sì sono d'accordo credo il signor Lugo crede mi chiede se rispetto insomma al rilievo che ha avuto Denitis nella storia dell'arte indubbiamente penso che la questione legata alla morte precoce abbia influito su una come dire capacità di paraffermare di diffondere di radicare l'importanza di Denitis nella narrazione della storia dell'arte così come come la conosciamo sì probabilmente dedicheremo nelle lezioni future anche a Pizarro sicuramente anche perché Pizarro è uno degli autori indubbiamente presenti nella mostra che andremo a inaugurare il professor Masedo mi chiede dell'aspetto della meridionalità nell'opera di Denitis allora sì io credo che questo aspetto se così possiamo chiamarlo di meridionalità è un aspetto strettamente collegato con le tematiche paesaggistiche con la scuola di Posillipo e con questa sorta di rielaborazione romantica che noi troviamo costantemente nei primi anni di attività dell'artista delle tematiche paesaggistiche il ruolo che ritorna costante l'importanza che ritorna costante del soggetto del Vesuvio e in terza ma non ultima battuta il grande lavoro che negli anni dedica a a Pompei e quindi questi elementi sicuramente sono degli elementi di forte come dire sia dal punto di vista tematico che di narrativo importanti nella pittura dell'autore allora è proprio una trasformazione nel senso non penso che Denitis in qualche modo ceda al mercato ma Denitis trasforma il proprio interesse da questioni paesaggistiche a questioni di tipo da questioni paesaggistiche a questioni legate proprio alla società di linguaggio e di costruzione della nuova emergente società parigina quindi penso ci sia proprio questa trasformazione che non è tanto un cedere al mercato questo risponderà all'ultima domanda che mi è stata fatta ma è proprio credo una vera e propria trasformazione che a mio avviso rende l'opera di Denitis molto più interessante ecco allora il ciclo di conferenza questa è l'ultima domanda che abbiamo se si conclude con Boldini no no ma riprenderemo dopo riprenderemo a maggio nel senso che faremo sicuramente un po' di pausa dopo la conferenza di Boldini perché ci sarà il 25 aprile il primo maggio e quindi dopo tra virgolette la pausa del 25 aprile il primo maggio riprenderemo le nostre conferenze la dottoressa Zanella lo insomma sta già lavorando sul programma dei prossimi incontri e quindi e quindi sicuramente dopo il primo maggio riprenderemo con dei nostri incontri sperando anche di riuscire effettivamente a comunicarvi una volta per tutte diciamo la data in cui finalmente apriremo la mostra al Museo Maga e quindi poi finalmente quando quando poi apriremo speriamo non più di vederci online di vederci in presenza ecco io vi ringrazio vi ringrazio ancora per l'attenzione con cui ci seguite vi ringrazio anche per tutte queste domande per riuscire insomma anche a intrattenere con voi questo questo dialogo vi do quindi appuntamento a mercoledì alle 11 e mezza per chi volesse seguire il nostro notiziario e poi a domenica prossima con la nostra direttrice per parlare della vita di Giovanni Boldini buona domenica e buona serata a tutti